Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura alla cronaca, a Sansepolcro i carabinieri hanno arrestato una ladra seriale che doveva scontare 3 anni e 10 mesi di reclusione in seguito ad un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di La Spezia. La donna, cittadina di origini rumene con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, è stata rintracciata mentre era in auto assieme al marito nel corso dei controlli nell'ambito dell'intensificazione delle pattuglie per il contrasto al crimine diffuso in occasione delle fiere di mezza quaresima. In città invece nel primo pomeriggio un incidente all'incrocio tra via Fiorentina e via La Mendola, un mezzo pesante ed un'auto si sono urtati all'altezza del semaforo. L'auto è stata tamponata dal camion che è finito nella corsia opposta bloccando di fatto anche il traffico che proveniva dall'opposta direzione. E oggi è il 19 marzo, giorno della festa del papà e abbiamo deciso di parlare di congedo parentale, una misura sempre più utilizzata dai neopapà ma che forse non è abbastanza conosciuta. Vediamo il servizio. Se da un lato sono ancora troppe le donne costrette a dover rinunciare alla carriera o addirittura al posto di lavoro per occuparsi dei figli, qualcosa finalmente inizia a muoversi anche nell'universo della paternità. Sempre più papà scelgono di restare a casa ad occuparsi dei figli appena nati e questo succede secondo Save the Children che ha diffuso una ricerca su dati IMSI in occasione del 19 marzo, la festa del papà, grazie alla legge sui congedi parentali. Il congedo parentale obbligatorio per i padri lavoratori consiste nel diritto che i padri hanno di poter usufruire di 10 giorni lavorativi retribuiti al 100% in occasione della nascita del figlio e possono essere utilizzati anche non continuativamente cominciando dai due mesi antecedenti la data presunta del parto e entro i cinque mesi successivi. Pur restando un forte squilibrio di genere, la percentuale dei padri che usufruisce del congedo di paternità è più che triplicata tra il 2013 e il 2022. L'aumento di chi fa richiesta di questo diritto all'assenzione lavorativa si registra in tutta Italia, ma al sud il tasso si abbassa molto rispetto al nord. Ad utilizzare maggiormente il congedo sono gli uomini nelle fasce d'età comprese tra i 30 e i 39 e i 40 e i 49 anni. Inoltre è più probabile che il padre usufruisca del congedo di paternità se lavora in aziende medio-grandi, sempre secondo l'elaborazione di Save the Children dei nuovi dati IMSS. Vengono molti padri a richiedere informazioni su come funziona. Se per un papà prendere il congedo obbligatorio è ormai la normalità, un discorso diverso è però per i congedi facoltativi ancora poco utilizzati. Entrambi i genitori hanno la possibilità di utilizzare un congedo facoltativo che viene retribuito di norma al 30%, in via eccezionale per l'anno 2024 è prevista la retribuzione all'80% per i primi due mesi e questo congedo ha un'udalata massima per ciascun genitore di sei mesi. E in questa giornata abbiamo deciso di raccontarvi anche la storia di un babbo speciale, Roberto, che da anni sta portando avanti il progetto Mito Fusina 2. Oggi è la festa del papà, ti hanno fatto gli auguri? Sì, sì, certamente mi hanno fatto gli auguri, sotto dittatura sicuramente della mamma. No, a farti gli scherzi sì, ma li hanno fatti e bene, due figliole, quindi doppio auguro di babbo. Roberto è un babbo speciale, lo incontriamo a Camucia, nell'Arettino, durante una pausa dal lavoro e ci racconta la sua storia. Diciamo che sono un babbo come tutti gli altri, l'unica cosa che ho cercato di darmi da fare è non aspettare qualcosa che arrivasse stando sul divano. Roberto è il babbo di Gaia che il prossimo 21 di maggio compirà 18 anni. Da quando era piccola è affetta da una patologia, la CMT di tipo 2A, che colpisce gli arti coinvolgendo muscoli, nervi e ossa. Da qualche anno Roberto porta avanti il progetto Mito Fusina 2 del centro Dino Ferrari, l'associazione che sostiene e promuove le attività di ricerca scientifica. Con il suo omino del selfie il logo gli è stato donato da un famoso grafico e al pari dei più seguiti influencer, ma nel suo caso lo scopo è ben diverso. Influencer a livello per solidarietà, per beneficenza, ho creato questo omino per ricondurre un attimino a quello che sto facendo in questi anni, che è appunto questa raccolta fondi che sto portando avanti da diversi anni per la CMT di 2A, che è la malattia che ha mia figlia Gaia. E quindi tramite dei ricercatori a Milano, all'associazione Dino Ferrari, stiamo lavorando per arrivare a una possibile terapia, insomma per bloccare questa malattia che è ancora molto rara e sconosciuta. L'idea più originale nel tempo sono stati i braccialetti, poi sono arrivati gli arbre magic e tanto altro. Persino i selfie sono serviti a raccogliere fondi. Gaia il 21 di maggio compierà 18 anni e per il suo compleanno vorrei regalare un ipotetico assegno virtuale di 100.000 euro all'associazione. Adesso ci sono nuove idee a cui pensare per arrivare alla cifra tonda di 100.000 euro. Chiunque può donare, seguendo Roberto sui social nella sua pagina, ci sono tutte le indicazioni. Torniamo a parlare dell'ospedale San Donato di Arezzo. Arriva un secco no al progetto di finanziamento pubblico privato per la ristrutturazione. Quello della CGL è un'opposizione corale, viene dalla Confederazione, dalla Funzione Pubblica e dal Sindacato pensionati. Al no si accompagna il pieno sostegno alla difesa e al potenziamento della sanità pubblica in Toscana. La principale preoccupazione della sindacato riguarda il potenziale impatto che l'intervento di un soggetto privato potrebbe avere sugli appalti dei servizi sanitari. Voltiamo pagina. Da oggi in Toscana non ci potranno più essere cani tenuti alla catena. La Giunta regionale infatti ha approvato in via definitiva il divieto. Mai più cani alla catena in Toscana. La Giunta regionale ha approvato in via definitiva il regolamento che lo vieta dopo il primo sì che c'era stato lo scorso dicembre e il successivo passaggio nella commissione regionale preposta che si espressa favorevolmente. Il divieto a Valenza immediata varrà tutto l'anno e non solo d'estate come è stato nel 2023 quando tenere i cani alla catena fu proibito con un'ordinanza dal presidente Gianni perché con il caldo e il pericolo di incendi gli animali rischiavano di morire. Con l'atto si modifica adesso formalmente il regolamento del 2011 che ancora seppur in via eccezionale per un massimo di 6 ore al giorno con catene lunghe almeno 6 metri prevedeva la possibilità di tenere il cane legato non definendo però in maniera puntuale i casi eccezionali. Da qui la scelta di cancellarne la possibilità e definire in maniera più rigorosa il divieto precisando le eccezioni ovvero di fronte a casi di comprovate ragioni sanitarie o per urgenti misure di sicurezza. Si tratta di una norma di civiltà tenere un canna alla catena può avere serie conseguenze psichiche e fisiche per lo sviluppo degli animali ha commentato il presidente della Toscana Eugenio Gianni. Un calendario di incontri con i comitati Mensa che si innestano nel percorso di ascolto diffuso il cosiddetto Mensa Day calendarizzato ogni ultimo venerdì del mese. Si comincia appunto questo venerdì alle 17 con l'incontro all'istituto comprensivo Vasari. La rifezione scolastica riguarda quasi 4.000 utenti ogni giorno, bambini e bambine ed oltre 500 pasti speciali commenta il vice sindaco Lucia Tanti ed è pertanto un servizio imponente che ha bisogno di un continuo e costante confronto che non solo ci aiuta ad essere sempre più efficienti ma crea anche una vera alleanza tra comune, scuole e famiglie. A Cortona invece le realtà del terzo settore potranno presentare una manifestazione di interesse per la concessione in comodato d'uso gratuito e dei locali dell'immobile ex telecom di Camucia. La struttura di via di Murata diventerà la casa del volontariato e potrà essere sfruttata dalle associazioni locali che si occupano di attività sociali. Per presentare la manifestazione di interesse c'è tempo sino alle 12 del prossimo 22 marzo. Ed era il 19 marzo invece di un anno fa quando ci ha lasciati Piero Franchini imprenditore, fotografo, socio di Arezzo TV e colonna portante della nostra emittente proprio nella giorno della festa del papà. Per ricordarlo la figlia Maria Rita Franchini ha deciso di dare una mano alla Caritas e alle famiglie in difficoltà. Lui quando poteva insomma nel suo piccolo ha sempre dato una mano e sono sicura insomma che questo gesto sia anche un bel modo per ricordarlo. Lui è scomparso quasi una beffa il giorno della festa del papà. Lui è stato il tuo babbo sicuramente ma è stato un po' il babbo di tante persone appunto alle quali ha dato una mano più grande o più piccola ma insomma ha dato un grande esempio. Sì lui era così, lui con le persone ci sapeva fare, ci sapeva stare, quando poteva dare una mano la dava e sicuramente in questo anno sono tantissime le persone che sono venute anche a ricordarmelo che avevano piacere insomma di parlare di lui e in qualche modo ringraziarlo anche nel ricordo perché l'aveva in qualche modo aiutata. Maria Rita Franchini ricorda il babbo Piero scomparso ormai un anno fa proprio il 19 marzo, festa del papà con un gesto che sicuramente lo rappresenta e che lo renderebbe orgoglioso. Una donazione da parte dell'ottica Franchini alla Caritas che andrà ad aiutare il pagamento di bollette e utenze di coloro che appartengono alla cosiddetta zona grigia e che contribuirà anche all'apertura del dormitorio Caritas nei mesi di aprile e maggio. Siamo riusciti un po' a prolungare perché appunto la stagione è un po' strana e quindi non è il caso ancora di poter chiudere dato che la primavera sta arrivando in una maniera un po' strana e quindi non è sicuro lasciare la gente ancora fuori però c'è questa emergenza che va avanti e purtroppo arriviamo sempre a Singhiozzo perché si ritaglia di qua di là ma è una spesa ovviamente il dormitorio perché deve essere ben organizzato e oltre al dormitorio c'è un grande aiuto che ci viene dato per sostenere la cosiddetta fascia grigia. Abbiamo tante persone che sono invisibili perché non penseresti che queste persone avessero dei problemi però ci sono persone che non riescono a pagare le minime utenze per la luce, per un po' di riscaldamento e quindi allora il problema qual è? Che questi devono scegliere fra un pasto decente e riscaldarsi o avere le utenze essenziali. O magari qualcuno anche scegliere ad esempio tra acquistare un farmaco o pagare la bolletta della luce? Anche questo è un grande problema, un po' col nostro ambulatorio, col banco del farmaco che ci sostengono non riusciamo a fare questo, a dare una piccola mano però certamente in quel caso lì abbiamo persone che non prendono un farmaco per poter mangiare. Un gesto che arriva a pochi giorni dalla morte del giovane di 26 anni per arresto cardiaco nei giardini del Porcinai una vicenda che ha scosso molto le coscienze. Questo ragazzo ovviamente la morte è stato un arresto cardiaco però ecco è un po' morto diciamo nella solitudine sicuramente quindi questo gesto arriva anche come esempio che speriamo sia seguito anche da qualcun altro. Sì speriamo che la solitudine di tante situazioni difficili a volte porta a delle conseguenze, a dei gesti estremi. Sarebbe bello che ci fosse un pochino più di solidarietà, un pochino più di vicinanza in quello che si può logicamente a volte anche piccoli gesti però tutto secondo me può fare la differenza. Tornano sabato 23 e domenica 24 marzo le giornate fai di primavera il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico giunto alla sua 32esima edizione. Tornano sabato 23 e domenica 24 marzo le giornate fai di primavera il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro paese giunto alla sua 32esima edizione. Il fai sotto questo aspetto corrisponde a una comune indicazione e indirizzo verso la scoperta della Toscana diffusa ovvero quella Toscana che non sono le grandi città che richiamano i milioni di turisti ma che è altrettanto bella perché nel corso della storia ha offerto la possibilità di vivere dei momenti e delle realtà che poi sono uniche al mondo. In Toscana sono 35 le aperture straordinarie di altrettanti luoghi che potranno essere visitati sotto una luce originale ed insolita palazzi storici, case private, luoghi di natura e cultura ma anche botteghe di antichi mestieri e borghi. Borghi che saranno raccontati anche in maniera diversa e luoghi che incuriusciranno il visitatore attraverso un racconto diverso fatto dai nostri narratori e dai nostri apprendisti ciceroni. A Lucignano nelle giornate fai in programma ben due inaugurazioni ed aperture quella della Fortezza Medicia e del Chiostro di San Francesco. Grazie all'interessamento anche del fai e grazie al suo presidente il dottor Marco Magnifico che ci riserva sempre uno spazietto particolare e grazie anche all'attenzione emessa che ha reso possibile poi reperire risorse. Grazie infiniti al presidente della regione toscana Eugiani Eugiani perché con la sua attività di vicinanza ai territori alla Toscana diffusa comunque costruisce bandi che noi comuni possiamo poi attraverso i quali reperire risorse. Quindi questi sono oggetti completamente restaurati e finanziati con bandi di regione toscana. Restiamo in Valdichiana, anche quest'anno il comune di Castiglion Fiorentino aderito al progetto Costruiamo Gentilezza in occasione della giornata della gentilezza prevista per il 21 marzo spedirà gli inviti per la consegna della chiave della gentilezza ai piccoli castiglionesi classe 2023. La consegna poi del simbolo dell'iniziativa ai nuovi arrivati si terrà nel mese di aprile durante la giornata conclusiva del progetto Nati per Leggere. Cortona invece è pronta a celebrare il gigante bianco. È stata presentata la 69esima edizione della mostra dei bovini di razza a Chianina in programma sabato 23 e domenica 24 al Museo della Civiltà Contadina di Fratticciola. 14 gli allevatori che saranno presenti alla manifestazione. Due giovani studenti aretini invece dell'Istituto Comprensivo Piero della Francesca prenderanno parte alla finalissima dei campionati nazionali dei giochi matematici del Mediterraneo il prossimo 14 maggio a Palermo dove si confronteranno con i migliori di tutta Italia. Si tratta di Filippo Pannessa e Elia Frangipani. Dal prossimo 21 marzo invece ad Arezzo è in programma una stagione che segna per il Centro Sportivo Italiano Comitato Arezzo una linea che porterà all'estate. Dal punto di vista dell'aria educativa prima dei centri estivi come ogni anno infatti ci sono gli Esther Camp ovvero giornate incentrate in attività pasquali assieme ai bambini e le bambine dai 4 ai 12 anni. Le giornate si svolgeranno alla San Domenico Village a casa della CSI Aretino. Questo fine settimana invece ad Arezzo al Teatro Tenda è tornato in scena tale quale show della rotaia per il calcite che anche quest'anno ha registrato un sold out. E' tornato in città tale quale show della rotaia, varietà, musica live, cabaret, canto e danza. Al Teatro Tenda di Arezzo ha ancora un successo per lo spettacolo organizzato dal gruppo Ferrovieri giunto alla sua nonna edizione. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio. Il scopo principale della serata è quello di raccogliere fondi per sostenere il servizio di cure domiciliari e oncologiche, servizio scudo del calcita. E' uno spettacolo che nel tempo si è dimostrato sempre molto partecipato, anche quest'anno i posti sono esauriti già da 15 giorni, perciò è uno spettacolo che piace alla gente e devo dire che tutti gli anni si riesce a riempire il Teatro Tenda. Tra gli ospiti della serata anche gli avanzi di Balera. Lo vedete queste? Sono le chiavi del conservone dell'acquedotto della Fortezza. Io sono andato lassù, ho preso, ho mangiato una frittata con l'asparagi e ci ho pesciato dentro. Lo so, è buchinina rispetto a tutta l'acqua che c'è. Però stasera, prima di andare a letto, quando ve l'avate detti, si sentite un po' deferruginoso. Un nel ferro! So stato io! Arrivederci! Successo anche per Arezzo Wave in trasferta a Los Angeles. La fondazione, nata in città per sostenere i talenti musicali italiani, ha portato nella metropoli californiana alcuni tra i più apprezzati artisti nostrani. Tra loro anche Frida, Bollani Magogni e Big Mama. L'occasione è stata la partecipazione alla ventitresima edizione del Muse Expo, prestigiosa conferenza internazionale su musiche media, grazie alla vittoria del bando per chi crea, indetto da Ministero della Cultura e SIAE. Presente anche quest'anno il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli. E prosegue anche il progetto Le Vie di Arno, il calendario di eventi programmato per festeggiare i 90 anni dalla società Canottieri Comunali Firenze, che dopo il tratto delle foreste casentinesi ha toccato il tratto aretino in canoa e gommone. Ha un'emozione, anche se il tempo è un po' così, ma è uno degli sport più belli del mondo e ti permette di stare a contatto con la natura, sempre fuori, sempre a giro. Bello, perché c'è un'acqua completamente differente, noi siamo abituati all'acqua marrone, qua invece si vede il fondale, quindi è molto bello e è più natura aperta. In canoa e gommone hanno percorso il tratto aretino dell'Arno tra Borgagiovi e Ponte Aburiano-La Penna. Iniziato nelle foreste casentinesi prosegue così Le Vie di Arno, il calendario di iniziative messa a punto dai Canottieri Comunali Firenze per celebrare 90 anni di vita con una discesa completa del fiume dalla sorgente alla foce. Finora abbiamo visto un fiume in buone condizioni, con una vegetazione notevole, abbastanza pulito, c'è qualche residuo di plastica, ma diciamo che almeno dal punto di vista visivo l'acqua sembra in ottime condizioni. L'aspetto da segnalare, uno l'ho già detto, quello di avere lungo il fiume magari una via ciclabile, che sarebbe l'ottimo, e dal punto di vista canoistico, ci sono spesso delle chiusi o delle pescaie che rendano difficoltoso la navigazione. Una quarantina le persone, tra ragazzi, atleti e semplici soci che hanno pagaiato, accompagnati da una guida ambientale solcando il fiume nell'invaso della penna. Bellissimo, il fiume è veramente bello, veramente bello. C'è qualche plastichina, ma non molte, direi piuttosto pulito. È stato meraviglioso, stupendo, io mi sono divertita molto. Il progetto vuole essere un tributo al fiume Arno, ma anche l'occasione per verificarne lo stato di salute. Conosci il fiume dall'interno permette anche ad enti, come il Consorzio di Bonifica, di poter meglio valutare le condizioni del fiume stesso, degli argini, della vegetazione riparia e intervenire in modo più mirato sulle interventi di maturazione che noi siamo obbligati a fare. Questo permette anche a questo tipo di attività di far conoscere il fiume, far conoscere il fiume e rendere anche i cittadini partecipi e coscienti di quello che il fiume rappresenta. La ginnastica ritmica della società sportiva Falciai la scorsa domenica al Palasporta Prometeo di Ancona ha chiuso in testa il campionato di Serie B guadagnando la promozione in A2. Il 2024 si apre con uno straordinario risultato che da seguito ai successi collezionati dallo sport a retino nel corso del 2023, l'infa vitale per il nostro mondo dello sport e orgoglio per l'intera città, ha commentato l'assessore allo sport del comune di Arezzo Federico Scapecchi. Presso concorderemo modalità e tempistiche per celebrare insieme alle atleta e a tutto il team un momento ufficiale di riconoscimento del merito e di ringraziamento a nome di tutta la città. E ottimi risultati anche per la chimera nuoto che ha debuttato ai campionati toscani giovanili invernali con nove medaglie. La più importante manifestazione regionale ha preso il via a Livorno con la sessione femminile e ha visto la società retina scendere in basca con 11 atleti in diverse fasce d'età e diverse specialità con positivi risultati che sono valse il sesto posto tra 28 società da tutta la regione nella classifica ragazze. La grande gioia della vittoria del titolo di campionessa regionale è stata vissuta da Sofia Donati che ha trionfato nei cento d'orso mentre Margherita Mattioli ha vinto ben sei medaglie. Questa per stasera era l'ultima notizia. Vi ringrazio per l'attenzione. Arrivederci.